Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Roblox Oggi siamo in una mappa che ho portato anche in passato nel mio canale Cioè Natural Disaster Scusate un attimo ma tu cosa ci fai sopra la mia testa? Vabbè facciamo finta di niente, facciamo finta di niente Intanto le... sta fluttando? Ok Oggi comunque cosa faremo? Oggi voglio fare una cosa che ho portato molte volte nel mio canale Se muoio finisce il video Però io l'ho portato di solito in dei parkour Mentre stavolta sono su Natural Disaster Io ho già portato molti video su questa mappa Cioè non molti però alcuni Oddio, no, non ce ne abbiamo Alcuni video su questa mappa Quindi se non ve li siete visti guardateli subito Quindi funzionerà che io se dovrò morire anche solo una volta in questa mappa Dovrò chiudere il video Sì Esatto Dovrò chiudere il video Ok, casa felice Perfetto Iniziamo subito Va bene Cerchiamo di non morire subito Perché se no dovrò concludere il video Spero di far venire un video lungo almeno 10 minuti Dai, almeno 10 minuti si può fare Per un attimo mi ero buggato Ok Comunque raga vi voglio ricordare di iscrivervi tutti al canale Perché quando Scusate mi sono affogato tantissimo Perché quando arriveremo ai 700 iscritti presso cuore d'anno Farò uno speciale Stupendo ragazzi Vi piacerà tantissimo Ne sono sicuro Però Oddio c'è il fuoco Però dovete arrivarci Dai, dai, dai Non vedo l'ora Lasciate un bel like Proviamo ad arrivare a 12 like E soprattutto condividete il video con tutti i vostri amici Ok, dai Allora adesso c'è Ecco Già la casa sta prendendo a fuoco Un ottimo inizio dovrei dire Veramente un ottimo inizio Vabbè, basta che noi ci teniamo lontani E non dovrebbe succedere nulla Povera casa Sta tutta prendendo a fuoco Vabbè, oddio Oh cavolo Tra poco cade Tra poco mi sa che cade Quegli sul tetto Mi sa che non faranno una bella fine Cavolo, si sta bruciando tutta Vabbè, io sono salito sopra un albero Però Questa round lo sopravviverò sicuro E cercherò di fare Non troppi talli Però non ne sono sicuro Così almeno il video Viene un po' più lungo Però fin quando c'è il fuoco Siamo protetti Ma È diventato carbone? Chissà che è carbone Lo posso toccare? Sì, il carbone non mi fa male Perfetto Vi devo dire che il fuoco Fa veramente tanto Ma tanto danno Soprattutto questo bianco Fa un sacco di danno Ok Siamo sopravvissuti Guardate dove sono Dove sono io Ah, eccomi Sono trovato Vi dico che quello bianco Fa veramente Tanto Ma tanto danno L'importante è che il primo round L'abbiamo superato E diciamo che L'hanno superato un po' tutti Ora un attino Mi vado a suicidare No, no, no Mi vorrei suicidare Perché ho poca vita Cioè non è che ho poca vita Non ne ho tutta Però Diciamo che ne ho veramente tanta Ok Va bene Dove Ora che disastro ci sarà Allora Secondo me lo tsunami no Lo tsunami succede Solo quando ci sono Palacci oppure cose altre Soprattutto scrivete nei commenti Se volete vedere Un video dove provo La mappa dello tsunami Cioè ci sarà solo lo tsunami Non ci saranno solo queste cose Cioè tornati, lava Ma solo tsunami Scrivete se magari Lo vorreste vedere Un video del genere Ok Adesso mi metto qua schiacciato Aspettando il prossimo disastro Quale sarà A dopo Mi sa che io ho capito Quale sarà il prossimo disastro Voi l'avete capito? Beh Ecco Lo sapevo Mannaggia Quanto fuoco C'è un vulcano Quindi cosa poteva essere Ok Quindi Nascondiamoci Nascondiamoci Questo è ancora più pericoloso Della lava Butta quei blocchi giganti Ne potete vedere uno là E sono davvero Ma davvero Pericolosi Quindi Stiamo al coperto E soprattutto Cerchiamo di non morire Beh Io mi nascondo qua E speriamo che non succeda niente Sto riflettendo su una cosa Se io non dovrei morire mai Questo video Quanto lungo dovrebbe venire? Tipo 20 30 40 minuti No Spero di no Spero di morire A un certo punto Però Ancora no Dai ancora Lo voglio far durare Un altro po' Il video Perché 5 minuti è poco Oddio Mi stava cascando Un coso Mamma io spero che non Ne arrivi uno qua dentro Perché anche questi Fanno molto molto danno Ma Ma sono pa' Ma Si stanno arrampicando Nel vulcano Ma seriamente? Ma chi? Oddio Ne ha atterrato uno qua vicino Ma Quei che faccio Si arrampicherebbe In un vulcano? No vabbè Sti qua son pacci Sti qua son pacci Veramente Ma sto scale A cosa serve? Ah Va bene Stavo dicendo Quelle scale A cosa servivano Che c'erano tipo Delle scale Che non portavano Da nessuna parte E intanto Siamo sopravvissuti Siamo nella stessa posizione Dell'altro round Perfetto Ma What Che ha questa? Vuoi far volare Ma soprattutto Che cavolo di skin ha? Vabbè Non ci facciamo domande La trovo Lo dovrei trovare da qua Credo Vediamo Vediamo Ok Ecco E questa qua Ok Ragazzi Mi sa che ci sarà La pioggia Acida Per il prossimo round Quindi io mi metto qua dentro E spero veramente Ma questo round Poi questa mappa L'avevo già giocato In uno scorso video Se vi ricordate Lasciate Cioè Iscrivete nei commenti Se vi ricordate Se avevo giocato A questa mappa Quindi mi sa che ci sarà La pioggia Acida Perché Ho visto sti nuvolani Ma cosa fa quella che salta? Ecco Il tornado Il tornado No 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 Ho sbagliato Ho sbagliato Mi hanno ingannato Mi hanno ingannato Il tornado è pericoloso Il tornado È molto Molto Pericoloso Perché Va in giro E nessuno può prevedere Dove va Quindi Dobbiamo stare Più là Più lontani Possibili dal tornado Se vogliamo vincere E io Voglio vincere No 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 Si sta avvicinando Devo scappare Devo scappare Oh cavolo Non ci credo Aiuto 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 No No raga Sono morto Non ci credo Va bene ragazzi Lo ammetto Sono morto Ma dai Sono morto Per un bug Quindi non dovrebbe valere Però vabbè Sono morto Lo stesso Per un bug Perché mi ha trascinato via Però Sono morto Lo stesso Quindi ragazzi Questo video Si conclude qua Lo so che è più corto Degli altri Spero che vi piaccia Lo stesso Lasciate un buon like E iscrivetevi al canale Per me da questa volta È tutto E noi ci vediamo In un mio prossimo video Ciao a tutti E ditemi se volete Magari la seconda parte Nei commenti Oppure Volete la mappa Dello tsunami Va bene Ciao ragazzi